Mal di schiena, acari, cattivi odori? Hai capito che è ora di cambiare il materasso? Adesso è il momento, con la supervalutazione del tuo vecchio materasso, fino a 1000 euro. Vieni a provare il materasso più adatto a te, personalizzabile dal più morbido al più rigido e in tutte le misure che vuoi. Prodotti di qualità al prezzo più basso, ora con la supervalutazione del tuo vecchio materasso. Avete visto altre offerte? Prima passa da Riccardo, perché di me ti puoi fidare. Allora anche voi avete cantato il mio singolo, perché siete tornati dalle ferie, hanno riaperto le scuole, siete rientrati a lavoro, siete in poltrona, siete a lavorare. Il settembre è un mese bellissimo, perché adesso si fanno anche dei grandi affari e da Riccardo Corredi a settembre trovate la nuova collezione di materassi. Ma attenzione, noi abbiamo i materassi da 199 euro fino al dispositivo medico. Perché? Perché adesso è il momento di cambiare il tuo vecchio materasso, con la supervalutazione, fino a 1000 euro. Quindi correte nei punti vendita Riccardo Corredi. E attenzione, abbiamo una serie completa di materassi matrimoniali da 199 euro, ma sono tutti Made in Italy. L'abbiamo sfoderabili, quelli vegani, abbiamo quelli dispositivi medici, abbiamo la Ferrari dei materassi, una gamma completa. Perché adesso possiamo fare i pagamenti rateali e con la supervalutazione fino a 1000 euro è veramente arrivato il momento di cambiare il tuo materasso. Ma in allegria, come il mio jingle che da 40 anni lo cantano Alto, basso, magro, grasso, brutto, bello, Riccardo! Perché da 40 anni di me ti puoi fidare. Quindi lo possiamo cantare il nome Riccardo Corredi. Perché se avete visto delle altre offerte in giro, in TV, internet, prima passate da Riccardo. Perché da 40 anni di me ti puoi fidare. Non ha detto che lo devi comprare, devi solo informarti nella vericidità del prodotto, della garanzia, della qualità Made in Italy. I prezzi ormai si trovano da tutte le parti. Ma che cosa comprate? Comprate la qualità, sappiate spendere bene i soldi. Perché noi a letto si va 8 ore al giorno. E pensate che un terzo della vita si passa a letto. Quindi ci vuole un prodotto di qualità al prezzo più basso che c'è. E questo solo da Riccardo Corredi. Per non parlare delle poltrone. Anche le nostre poltrone hanno la defiscalizzazione del 19%. Lì va il 4 per portatori di handicap. Tutta qualità italiane. I letti, i letti ne abbiamo tantissimi col contenitore senza reti motorizzate. Ma prima si passa sempre da Riccardo. Perché di Riccardo ti puoi fidare. Io vi aspetto nei miei punti vendita da 40 anni. Grazie a voi sono ancora qua. Ciao! Alto, basso, marro, grasso, brutto, bello. Riccardo, Riccardo!